Come conquistare quote di mercato? Oggi rispondo ad Andrea a chi mi chiede Ciao Massimo, quando abbiamo un concorrente molto grande e forte e noi siamo piccolini, come possiamo competere per sopravvivere? La domanda di Andrea è molto interessante perché racchiude più o meno la situazione in cui sono tantissimi piccoli imprenditori italiani o tanti liberi professionisti in cui sono nel mercato magari con un prodotto effettivamente ottimo ma hanno di concorrenti talmente forti, solitamente a livello di marketing, che diciamo li polverizzano perché portano via tutti i clienti. Allora, questa è una tematica assolutamente importante e interessante. Innanzitutto dobbiamo stabilire diciamo come sono le situazioni, nel senso che se noi siamo piccolini e abbiamo davvero un competitor che è enorme, diciamo un leader di mercato, la nostra strategia sarà di un tipo. Se non esiste un leader di mercato ma combattiamo con altre piccole attività, la strategia sarà diversa, ma oggi rispondo solamente a come muoverci quando dobbiamo competere con un grandissimo leader. Innanzitutto dobbiamo fare una precisazione. Se noi vendiamo le stesse identiche cose che vende anche un competitor più grande, praticamente non c'è nulla che possiamo fare. Possiamo sì differenziarci un pochino con il servizio e studiarci qualcosa, però diciamo che la nostra capacità di azione sarà molto limitata, nel senso che io vendo scatolette di tonno riomare che sono quelle, il supermercato le vende una cifra che è più bassa rispetto a quella che io la pago come negoziante, ecco che non posso competere semplicemente. Per farlo dovrei inventarmi un qualcosa del tipo ordine da me e te la porto a casa, però è una cosa che anche il tuo competitor potrebbe fare e quindi è molto difficile. Per cui non tratterò neanche questo esempio perché a mio avviso è un business che purtroppo andrà a morire e non ci sono alternative, non ci sono soluzioni. Invece cosa succede se tu hai un prodotto unico e ti trovi a competere con un concorrente enorme? Immaginiamo che tu sei un massaggiatore, un pizzaiolo, un centro estetico, un qualunque cosa che effettivamente propone un servizio che non può essere identico a quello dei nostri concorrenti. Immaginiamo anche solo un parrucchiere. Se io taglio i capelli, sono io che ti taglio i capelli e sarò necessariamente diverso da un'altra persona. In questo caso come ci possiamo muovere? Qui abbiamo tantissimo spazio di manovra. La mossa più intelligente è quella di andare a identificare un punto debole che ha la concorrenza e concentrarci su quella piccola, chiamiamola falla, quel fianco scoperto che questa azienda ha perché il danno, chiamiamolo così, che andremo a fare sarà talmente minuscolo per un'azienda gigantesca che non si renderà nemmeno conto che gli stiamo portando via dei clienti ma magari erodere un 1% da un'azienda che è gigantesca equivale a noi a fare un più 300%. Quindi in questi casi abbiamo assolutamente bisogno di identificare un nostro punto di forza che vada ad attaccare un punto debole dei nostri concorrenti. Ad esempio c'è un centro grossissimo dove però prima di servirti devi aspettare due mesi perfetto, possiamo creare una comunicazione in cui noi ci proponiamo di risolvere il problema invece che in due mesi, in un giorno. Questo è solo per fare un esempio veramente stupido ma la logica è troviamo un qualcosa che la concorrenza non fa in maniera incredibilmente ottimale e nel momento che noi siamo piccoli non potendo competere a darmi pari con loro non possiamo attaccarli sul loro punto di forza perché ci spazzerebbero via hanno una capacità di spesa, di marketing, di investimenti molto più ampia della nostra e quindi dobbiamo necessariamente muoverci tra virgolette di soppiatto e il metodo più efficace è proprio questo trovare un piccolo punto debole e qualunque tipo di azienda ha punti deboli perché in base a come vediamo il prodotto, un problema, un mercato un punto debole è necessariamente anche un punto di forza dipende semplicemente dalla prospettiva con cui lo guardiamo di questo ne parlo molto nel mio corso Business Architect, nel mio capolavoro se volete approfondire questo argomento vi rimando al corso in ogni caso troviamo uno di questi punti deboli poniamoci come la soluzione perfetta, più adatta alle persone per cui quel punto debole è un fastidio un esempio molto banale, lo stesso che poi utilizzo anche in Business Architect nel mio corso tu vendi hamburger gourmet ma il tuo concorrente è il McDonald's, oggettivamente fatti due panini diversi il problema è che se tu cerchi di comunicare con un da me spendi meno e te lo preparo in due minuti quindi non devi neanche aspettare McDonald's vincerà sempre, non puoi competere su questi suoi punti di forza allo stesso tempo questi punti di forza sono anche punti deboli perché noi potremmo dire non vuoi mangiare un panino che era già stato preparato da mezz'ora con ingredienti preconfezionati che oggettivamente sono ingredienti di bassa qualità perché il prezzo lo giustifica eccetera ecco se vuoi un qualcosa di più, un panino fatto al momento con ingredienti di prima qualità eccetera viene da noi che è necessario aspettare mezz'ora perché te lo prepariamo tutto al momento costa anche di più perché i nostri ingredienti sono più costosi se vuoi un'esperienza di questo tipo allora noi facciamo al caso tuo questo è solo un esempio però rende più o meno bene il concetto quindi nel momento che noi siamo piccolini e abbiamo un competitor grosso dovremo esattamente fare la stessa cosa andare a vedere i punti di forza o punti deboli ripeto praticamente la stessa cosa dei nostri concorrenti e posizionarci in maniera opposta quindi prendere i suoi punti deboli e trasformare i nostri punti di forza e attaccare quel tipo di pubblico che reagirà in maniera positiva alla nostra comunicazione in questo modo non importa che siamo grandi siamo piccoli McDonald non potrà mai competere con un'amburgeria gourmet perché quello che fanno è altro quindi nel momento che identifichiamo questi punti deboli noi possiamo attaccare il fianco scoperto e iniziare a prendere una piccola quota di mercato in alcuni casi saranno clienti che erano anche di McDonald in altri casi saranno clienti che da McDonald non sarebbero mai andati dopo lì in base alla strategia che decidiamo di utilizzare andremo ad attaccare i suoi clienti più affezionati o meno in questo caso meno essendo un cliente che ha un rapporto diciamo così forte con la sua clientela perché un vero amante del McDonald difficilmente cambierà ma questo vale per tutti ed è un punto di forza che puoi giocarti anche a tuo favore chi sceglie te se lavori bene difficilmente ti cambierà quindi è molto molto importante con questo è tutto spero di aver dato una panoramica abbastanza ampia su questo concetto perché un argomento di cui se ne potrebbe veramente per discutere per ore non è la pillola della sede adatta per cui mi limito a fare questa panoramica con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo nella maggior parte dei casi in Italia perlomeno nelle PMI la verità è che non esiste un competitor così grande avendo quasi tutti piccole attività geolocalizzate immaginiamo un ristorante la pizzeria che lavora di più che è un pochino più di moda più rinomata eccetera oppure un centro estetico più grosso però non abbiamo molti colossi con cui competere quindi fare marketing per prendere una parte di questi clienti in realtà in Italia è molto facile basta utilizzare le giuste strategie e le giuste tattiche fatto questo trovare i clienti non è assolutamente un problema con questo è tutto davvero e ti saluto ciao